Musica Ragazzi, io prima vi ho raccontato che questi sono discendenti dei vichinghi che sono guerrieri cattivi, orgogliosi, che vanno a saccheggiare per tutto ma non sono gente che mangia la gente potete avvicinarvi, Thor, tu mangi qui la gente vedete, lui è proprio di pura razza scandinava e vichingo puro sangue avvicinati, adesso ricominceranno con un pezzo lento per farvi entrare un bello pezzo di stipulio come find my own e piano piano avvicinatevi e partecipate sempre di più allo show forza Thor, facciamoli divertire stasera, va bene? ok ok let's rock this room come on Grazie a tutti